Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Continua il corso introduttivo ad Adobe After Effects Stiamo vedendo come funziona questo software, stiamo cercando di muovere i primi passi con questo software Quindi se già siete esperti e conoscete bene After, ecco questo probabilmente non è un corso per voi Se non avete mai messo mano ad After Effects e siete curiosi di imparare Ecco sappiate che questa ormai è l'ottava lezione, quindi probabilmente dovete tornare un pochettino indietro Nelle lezioni e ricominciare da capo Se invece siete solamente interessati a sapere come si inserisce del testo in After Effects Perfetto, siete nel posto giusto Prima però vi ricordo come sempre www.fabioambrosi.it Sito internet dove troverete gli articoli di questi tutorial Troverete l'indice con gli argomenti di questi corsi Ovviamente troverete anche il corso dedicato ad Adobe Premiere Quindi se volete approfondire questi due software, After Effects e Adobe Premiere Siete nel posto giusto www.fabioambrosi.it Se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale YouTube Per non perdere anche i prossimi video tutorial E cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi Teniamoci in contatto lì tutte le novità dei corsi Torniamo in After Effects e parliamo del testo Beh, innanzitutto bisogna dire che inserire del testo in un progetto grafico Soprattutto se lavoriamo per dei video o comunque dei contenuti multimediali È probabilmente fondamentale Immaginate i vostri programmi televisivi preferiti Le vostre serie tv preferite Ecco, fate caso a come il testo viene utilizzato, modificato, animato Per poter catturare sempre meglio l'attenzione dello spettatore Io qui ho fatto una semplicissima animazione Veramente molto semplice ed elementare Per mostrarvi come una semplicissima transizione Può essere fatta applicando sostanzialmente due o tre effetti Io qui non ho fatto veramente nulla di eccezionale Più avanti nel corso di questo modulo base vedremo magari come farlo Ecco, due o tre effettini animati nel modo corretto Applicati ad un testo possono fare per esempio una transizione Niente di eccezionale, lo ribadisco Ma non vi preoccupate, è questo quello che impareremo a fare in questo modulo base Ma partiamo dall'inizio Come inserire del testo in After Effects Beh, innanzitutto creiamo una nuova composizione Se non sapete come si fa Ci sono i tutorial precedenti di questo corso Se non avete voglia di tornare indietro nel corso Bene, cliccate con il tasto destro nel pannello progetto Nuova composizione Inserite un nome qualsiasi Inserite le caratteristiche che deve avere la vostra composizione E cliccate su ok Io qui ho già una composizione pronta a ricevere del testo E vediamo come inserire questo benedetto testo Allora, è molto semplice Abbiamo diversi modi per inserire un testo in After Effects Come spesso accade nei software Adobe Il metodo più rapido è quello di utilizzare lo strumento che trovate qui in alto nella barra degli strumenti Appunto lo strumento testo Clicchiamo sullo strumento testo Il nostro puntatore vedete che cambia di forma Clicchiamo nel nostro monitor di anteprima Vedete che appare questo indicatore che ci indica che siamo pronti per inserire del testo Scriviamo il testo che vogliamo inserire Ed ecco che il gioco è fatto Fine Abbiamo inserito il nostro primo testo Ma come vi dicevo esistono altri modi per inserire del testo in After Effects Io raccomando sempre di utilizzare la vostra tastiera Perché è probabilmente il modo più rapido per inserire del testo O in generale per fare delle operazioni in After Effects I tasti di scelta rapida da utilizzare per inserire del testo in After Effects Sono CTRL T Tenete premuto CTRL e poi il tasto T E vedete che abbiamo ottenuto lo stesso effetto Ovvero selezionare lo strumento per inserire del testo in After Effects Da qui in avanti la procedura identica Clicchiamo nel monitor di anteprima Inseriamo del testo Ciao a tutti E il gioco è fatto Fate attenzione quando avete finito di inserire del testo A tornare però nella modalità selezione Abilitando appunto il puntatore selettore Che è questo strumentino qui in alto a sinistra Potete cliccare direttamente su questo strumento Oppure tasto di scelta rapida da imparare a memoria Tasto V di Verona sulla vostra tastiera E qui vedete che torniamo alla nostra selezione di default Detto questo un'altra cosa c'è da notare Quando inserite del testo in After Effects Viene automaticamente creato un nuovo livello Non è un livello particolare È un livello come un altro in After Effects Però questo è un livello testo Essendo un livello è valido Tutto quello che abbiamo visto nei tutorial precedenti Quindi se apriamo questo livello Troviamo la trasformazione Quindi possiamo ancora riposizionare il testo Possiamo scalare il testo per ingrandirlo Possiamo fare tutte quelle operazioni Che abbiamo già visto fare Nei moduli precedenti di questo corso Con una precisazione Se fate caso Sopra alla scritta trasformazione C'è un'altra proprietà C'è un altro blocco di proprietà Meglio ancora Se le espandiamo Vediamo che sostanzialmente Si apre un mondo Letteralmente Queste sono delle opzioni avanzate Per modificare il testo Che vedremo più avanti Probabilmente nel modulo avanzato Ma sono delle opzioni fantastiche Che ci permettono anche di animare il testo Ok? Vedremo, ripeto, più avanti come fare Perché è un tema leggermente più avanzato Prima di arrivare a questo punto Ci sono ancora altre cose Che dobbiamo vedere e studiare Di After Effects Ma sappiate a titolo informativo Che per modificare del testo Per animarlo Per giocare con i tracciati E tante altre opzioni Ecco Sopra alle proprietà trasformazione Ci sono le proprietà testo E con queste potremmo veramente divertirci Ma se noi volessimo modificare Delle caratteristiche più elementari di un testo Come per esempio il colore Il font La spaziatura tra i caratteri La grandezza dei caratteri Come fare? Bene I più attenti di voi avranno visto sicuramente Che qui sulla destra C'è un nuovo pannellino Chiamato pannello carattere Se non trovate questo pannello Perché magari è chiuso Avete giocato con l'interfaccia Non vi trovate questo pannello Non vi preoccupate Basta andare nel menu finestra Cercare la voce carattere Cliccare su questa voce carattere Per abilitarla E vedete che qui ricomparirà il pannello carattere Bene Prima bisogna selezionare questo testo Quindi torniamo in modalità testo Premendo i tasti CTRL T Selezioniamo il testo E a questo punto possiamo scegliere Non so Di cambiare il colore del testo Vogliamo un testo rosso Si sta avvicinando San Valentino Ed è forse questo il colore più giusto Possiamo modificare il font Scegliendo tra i tanti font Messe a disposizione da After Effects Se siamo indecisi Possiamo cliccare su questo campo Il campo font E muoverci con la freccia up E la freccia down La freccia su E la freccia giù Della nostra tastiera E vedere un'anteprima Del font desiderato Possiamo ovviamente modificare La grandezza del font Ecco questa è l'opzione Per modificare la grandezza Del nostro font Possiamo modificare tante altre cose Tipo la spaziatura tra i caratteri Giocateci Io il consiglio che vi do Senza che qui ora stiamo a vedere Tutte queste opzioni Provate a giocare Cliccando Vedendo cosa fanno queste opzioni E prendete dimestichezza Con questo tool Che è molto molto importante Ricordatevi sempre Quando avete finito Di tornare nella modalità selezione E a questo punto Diventa un livello Come tutti gli altri Che potete muovere A piacimento Animare a piacimento Lo abbiamo visto nel tutorial precedente Come si anima un testo Potete fare qualsiasi cosa Voi vogliate Il limite È soltanto la vostra Fantasia Olè Perfetto Con questa informazione Si conclude qui Questo video tutorial Nel prossimo tutorial Parleremo delle maschere Un concetto fondamentale In After Effects Con le maschere Si fanno tante cose Quando poi Tra un paio di tutorial Metteremo insieme Le animazioni I testi Le maschere Vedrete che già Abbiamo imparato Dei concetti Concetti molto semplici Perché veramente Ci stiamo muovendo A piccoli passi In questo software Dicevo Concetti molto semplici Ma che già Vi permetteranno Di creare Delle piccole animazioni Molto semplici Ma efficaci Per i vostri video O per i vostri progetti Per il momento Vi ringrazio Come sempre www.fabioambrosi.it www.fabioambrosi.it Sito dove troverete L'articolo Anche di questo video Tutorial Per leggere Quello che sostanzialmente Ci siamo detti In questi minuti Iscrivetevi Iscrivetevi A questo canale YouTube Per non perdere Anche i prossimi Video tutorial E cercatemi Su Facebook La pagina da cliccare È Fabio Ambrosi Lasciate Commenti A questi video Con domande Con considerazioni Quello che volete Se volete Chiaramente Aggiungere qualcosa Fatelo serenamente Molti di voi Già Contribuiscono A questi tutorial Aggiungendo Qualche dettaglio Alle informazioni Che do Quindi se Avete voglia Di partecipare Alla community Sentitevi Ovviamente Liberi Liberi di farlo Per il momento Vi ringrazio Al prossimo Video tutorial Ciao